Cambia il consiglio direttivo di Ancele Cosondro dopo la nomina di Sergio Piazza, la dieci anni alla guida dell'associazione, alla vicepresidenza nazionale dei costruttori. Un riconoscimento che deriva dalla sua elezione a presidente della consulta delle specializzazioni e che consente al nostro territorio di avere un proprio rappresentante ai vertici del sistema nazionale. A succedergli, alla guida di Ancele Cosondro, è Luca Fabi, eletto dall'Assemblea degli Iscritti insieme a Luca Tentori e Michele Rigamonti, vicepresidenti, e Andrea Confortola, tesoriere. 50 anni, sposato con tre figli e residente a Malgrate, laureato in Economia alla IUC con una tesi sul controllo di gestione delle imprese edili, Fabi è amministratore dell'impresa Savai SRL di Malgrate, che rappresenta il passaggio generazionale di una lunga tradizione familiare nel settore dell'edilizia residenziale nella provincia di Lecco e di Varese. Dopo l'esperienza come vicepresidente del gruppo giovani, è entrato nel consiglio direttivo e dal 2013 a oggi è stato tesoriere dell'associazione. Fabi ha al suo attivo anche impegno in ambito sociale come presidente della Proloco di Malgrate. In questi anni, esordito il nuovo presidente che guiderà Ancele Cosondro fino al 2027, ho potuto maturare una ricca esperienza in ambito associativo, promuovere l'incontro tra imprenditori e diffondere il valore dell'associazione saranno le priorità a fianco del consolidamento dei servizi e dello sviluppo di progetti comuni con le altre associazioni di categoria e con le istituzioni dei territori che rappresentiamo. Intendo proseguire sulla strada che abbiamo costruito in questo decennio insieme a Sergio Piazza, sviluppando sinergie con il sistema Ance regionale e nazionale. Nella sua nuova veste di vicepresidente nazionale sarà un prezioso canale per far arrivare a Roma le istanze dei nostri territori. L'Assemblea ha rinnovato il proprio consiglio direttivo che sarà composto da Luigi Colombo, Natale Corti, Gian Davide Gaddi, Giovanni Gerosa, Sebastiano Guerini, Giulio Nogara, Sergio Piazza, Daniele Pozzi, Paolo Valassi, Alessandro Valsecchi.